Il fatto non costituisce reato. Con questa formula il collegio penale del tribunale ha assolto Carmelo Furneri. L'operatore guardiafuochi era finito a giudizio con l'accusa di presunto omissioni nei controlli. Secondo la tesi iniziale della procura non avrebbe messo in atto le procedure previste rispetto alle sorti e la motobarca liberante che poi affondò mentre era traccata al portoisola. All'imputato non è mai stata addebitata la responsabilità rispetto all'affondamento ma solo sui presunti controlli che non ci sarebbero stati. Uno messa a vigilanza che però il collegio ha escluso. La soluzione chiude il giudizio. Già il PM aveva concluso richiedendo appunto la soluzione. Le difese sostenute dagli avvocati Maurizio Cannizzo e Fabio Cipolla nel corso di struttura dibattimentale hanno ribadito che l'operatore si attenna alle prescrizioni previste. Non ci furono ritengono anomalie che abbiano potuto incidere sulle successive sorti della motobarca che affondando rilasciò gasolio in mare. La società Archimede proprietaria del natante si è costituita a parte civile nel giudizio assistita dall'avvocato Tommaso Vespo.